Beh, io personalmente innanzitutto seguo solo Instagram, poi ho un team che mi segue Facebook e Twitter, invece TikTok vietato, TikTok non ci arriviamo proprio. Lei giustamente è molto un figo anche su Instagram, dove pubblica le sue playlist, i Ruzzi Radio e The Mice Davis, però Sindaco non si vive solo The Mice Davis, ci dica la verità, lei ce l'ha un fichi fichi di Gianni Druidi, una canzone qualche neomelodica napoletana, ci dica? Però lei è piccola, Girò non se la può ricordare, non si può poter ricordare il mito, il grandissimo Nicola di Bari, la canzone Paese è stellare e quella c'è nella mia playlist, giuro. Ma ce ne può cantare un pezzetto? Paese dove sei nato, eccetera, eccetera. Vabbè, ho avuto quello, non potrei chiedere di meglio. C'è qualcuno che veramente sima molto, quali sono i suoi sindaci preferiti? In Italia, Brenda Bernini, che è la sindaca di Empoli, che anche appena diventata mamma, che è proprio brava. E all'estero, ed è un caro amico, altrettanto, si chiama Eric Gassetti, è il sindaco di Los Angeles, due città più o meno uguali. Sì, certo, sono dietro l'angolo, tutti i amici, insomma così. Empoli e Los Angeles. Quando viene a Roma, sindaco? Spero presto, perché io ce l'ho lasciato un po' il cuore a Roma, le devo dire. Come ambasciatrice di Roma Nord, le volevo chiedere, quando annette Roma Nord, guardi che siamo carini, siamo praticamente come voi milanesi però nel 2003. Non può essere un'idea, no, facciamo magari un... facciamo Roma Nord, feudo di Milano. Eccomi. 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 Eccomi.